Dopo aver letto quel passo del libro di Galileo Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo in cui Galileo spiega il principio di relatività con l'esempio della nave vediamo qualche altra bella citazione di Galileo A proposito del moto della terra Galileo dice che qualunque moto venga attribuito alla terra noi come abitatori di quella, cioè della terra e partecipi del medesimo, cioè del movimento della terra ci resta del tutto impercettibile questo movimento come se non fosse, cioè come se questo movimento non ci fosse mentre che noi riguardiamo solamente le cose terrestri cioè mentre noi osserviamo soltanto i fenomeni che avvengono sulla superficie della terra naturalmente l'idea di fondo è sempre quella di dare una risposta all'obiezione frequente dei filosofi e degli studiosi aristotelici che sostenevano il modello di universo di Ptolomeo cioè il modello geocentrico, cioè il modello della Chiesa e l'obiezione di questi filosofi tolemaico-aristotelici era quella che se noi veramente ci trovassimo su una terra in movimento che gira intorno al sole dovremmo avvertirne gli effetti di questo movimento siccome gli effetti non li avvertiamo secondo i filosofi aristotelici questa è una prova del fatto che la terra non si muove ma sta ferma al centro dell'universo invece Galileo risponde che qualunque moto venga attribuito alla terra a noi risulta del tutto impercettibile come se questo moto non ci fosse mentre noi osserviamo i fenomeni sulla terra a noi risponde che non ci fosse